Vecchi amori, nuovi sviluppi e storie infinite, i mondi separati di Demetos Demir e Gianyaman. Amore, passione, dramma e una carriera affascinante. Quando questi elementi si uniscono nel mondo delle serie tv e delle riviste turche, si crea sempre una nuova agenda per spettatori e fan. Soprattutto se questo amore è avvenuto tra Demetos Demir e Gianyaman, uno dei nomi più apprezzati in Turchia. Il leggendario amore dei due famosi attori, la loro successiva separazione e la loro costante presenza nell'agenda sono seguiti con curiosità dai fan. Gli ultimi sviluppi aggiungono una nuova pagina a questa storia, Demetos Demir ha saputo che il suo ex fidanzato Gianyaman aveva offerto un ruolo a un altro nome famoso, e questo l'ha sorpresa. Quindi, questo sviluppo risponde alla domanda se i vecchi amori sono finiti o la storia non è ancora finita. Cancelletto Trasformazione delle relazioni e sviluppi inattesi La relazione tra Demetos Demir e Gianyaman coincise con un periodo in cui le carriere di entrambe le parti erano al culmine. L'armonia della coppia, che ha recitato insieme nella serie tv Arcangicus, si è presto trasferita sullo schermo nella vita reale. L'alchimia tra loro ha affascinato non solo il pubblico ma anche il mondo delle riviste. Ma come ogni grande amore, anche il loro ebbe una fine tumultuosa. Nonostante la loro separazione, i loro nomi continuavano ad essere menzionati tra loro, e i fan si chiedevano sempre se la loro relazione fosse davvero finita. Il recente incidente ha aumentato ancora una volta queste richieste. Demetos Demir, che ha saputo che Gianyaman aveva offerto un ruolo a un'altra donna famosa, è rimasto scioccato da questa notizia. Questo evento indica solo l'inizio di una nuova era tra ex amanti o ha un significato più profondo? Cancelletto percorsi che portano in direzioni diverse nel tuo percorso professionale. Sebbene Gianyaman e Demetos Demir una volta fossero le persone più vicine tra loro, dopo la rottura hanno preso strade diverse nella loro carriera. Gianyaman si è allontanato dalla Turchia e ha ottenuto un grande successo in Italia e lì ha preso parte a numerosi progetti. È diventato un nome di fama mondiale, soprattutto con la serie tv Sandokan. Questa svolta nella sua carriera in Italia ha sorpreso molte persone e ha fatto sì che Yaman fosse conosciuto come attore sulla scena internazionale. Tuttavia, la sua popolarità in Italia gli ha portato diverse offerte di lavoro. Demetos Demir, invece, ha scelto di restare in Turchia e qui ha realizzato progetti di successo. Ha conquistato il cuore del pubblico con la sua interpretazione nella serie tv Dogdugun e Kaderindir. L'esposizione di Demeta e progetti in Turchia le ha permesso di costruire una forte carriera a livello locale. Tuttavia, i successi di Gianni Amman all'estero hanno fatto sì che la distanza tra loro si allargasse non solo fisicamente ma anche in termini di carriera. Cancelletto la nuova offerta di Gianni Amman, Addio ai Vecchi Amori? L'offerta di Gianni Amman di un ruolo ad un altro nome famoso può essere vista solo come un affare d'affari. Tuttavia, questa situazione ebbe diverse ripercussioni nel mondo delle riviste. Lo SOC di Demetho Sdemir per questo sviluppo ha sollevato la questione se la relazione tra loro fosse completamente finita. Si vede chiaramente che questi due, che una volta ottennero un grande successo con i progetti in cui interpretavano insieme i ruoli principali, ora si sono separati anche nella vita lavorativa. Ma questa separazione significa che il loro vecchio amore è completamente finito? Spesso ci vuole tempo perché gli ex si separino completamente l'uno dall'altro. Soprattutto se c'è un passato comune e una storia di successo. Demetho e Can in passato non erano solo una coppia ma anche soci in affari. I progetti a cui hanno lavorato insieme hanno fatto sì che i loro nomi venissero menzionati fianco a fianco per molto tempo. Tuttavia, l'offerta di un ruolo da parte di Gianni Aman a un'altra donna potrebbe indicare che questa vecchia collaborazione è ormai finita e che i due hanno iniziato ad andare in direzioni separate nel mondo degli affari. Questo sviluppo potrebbe essere un segno che i vecchi amori sono davvero finiti? Cancelletto Gli occhi dei media sono puntati su di loro. Ogni passo di Demetho Sdemir e Gianni Aman continua ad attirare l'attenzione dei media. Sebbene questi due nomi famosi un tempo fossero una delle coppie più chiacchierate in Turchia, ora sono al centro dell'attenzione non solo per la loro carriera ma anche per la loro vita privata. I media hanno sempre interpretato la loro separazione da diverse angolazioni, e quest'ultimo sviluppo potrebbe farsi che queste interpretazioni si approfondiscano ulteriormente. In molti hanno interpretato il successo di Gianni Aman in Italia e i suoi nuovi progetti come un modo per allontanarsi da Demetho. Di tanto in tanto sono emerse anche affermazioni secondo cui Gianni Aman mette la sua vita personale nel dimenticatoio concentrandosi sulla sua carriera. Tuttavia, la reazione di Demetho Sdemir a questo sviluppo forse porta indizi sul fatto che il rapporto tra loro non è ancora del tutto chiuso. Cancelletto I vecchi amori finiscono davvero. L'amore è un'emozione che cambia forma nel tempo. Anche se due persone si amano moltissimo per un certo periodo, le circostanze della vita, i progetti di carriera e gli obiettivi personali possono cambiare la direzione di questa relazione nel tempo. È esattamente così che si è evoluta la relazione tra Gianni Aman e Demetho Sdemir. Questi due, che per un po' si sono goduti la vita insieme, ora perseguono obiettivi diversi in mondi diversi. L'offerta di Gianni Aman di un ruolo ad un'altra donna potrebbe essere un segno che una nuova era è iniziata nella sua vita. Questo sviluppo può essere un segno che si stanno aprendo nuove porte non solo nel mondo degli affari ma anche nella tua vita personale. D'altro canto, la reazione di Demetho Sdemir a questa situazione dimostra che non riesce ancora a staccarsi completamente dalle sue vecchie relazioni? Cancelletto in conclusione, storie infinite. Anche se il mondo delle serie tv e delle riviste turche è pieno di storie d'amore, alcuni amori non finiscono mai veramente. La storia di Gianni Aman e Demetho Sdemir è esattamente una storia del genere. Anche se i due hanno scelto percorsi diversi nella loro carriera, le loro relazioni passate faranno sempre sì che i loro nomi vengano menzionati fianco a fianco. Mentre questi nuovi sviluppi ci fanno dubitare se l'amore tra loro sia davvero finito, è una questione di curiosità quale percorso seguiranno entrambe le parti in futuro. Le strade di Demetho Sdemir e Gianni Aman potrebbero non incrociarsi mai più, forse si riuniranno di nuovo in progetti diversi. Tuttavia, il legame tra questi due nomi sembra continuare ad attirare l'attenzione dei fan e dei media. Perché alcuni amori lasciano tracce anche se finiscono, e quelle tracce vengono sempre ricordate. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!